ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene uguale non ci sono problemi te l'ho detto mille volte già tra di noi c'è uno scambio molto ma molto importante e molti sottovalutano c'è uno scambio di tempo io dedico del tempo a voi voi lo dedicate a me e allora io vi chiedo cosa c'è di più prezioso del tempo nulla che senza il tempo di tutte le cose che hai non te ne fai di nulla quindi c'è già uno scambio prezioso molti utenti sono nascosti giovane nascondino non si iscrivono non capisco perché comunque se vi volete iscrivere gratis e attivate la campanella altrimenti ragazzi va bene uguale non ci sono problemi la roma sponsor saudita prevenire meglio che curare noi sullo sponsor siamo a posto anzi e otto mesi fa abbiamo predetto lo sponsor kuwait airways quindi noi siamo a posto su questo sono altri che dovrebbero dare spiegazioni dal da turkish airlines coca cola e chi più ne ha più ne metta perché lo sponsor saudita alla roma attenzione perché lo sponsor saudita alla roma perché la città di roma e chi è di roma chi è lupacchiotto lo sa meglio di me sfido chiunque a dire il contrario perché la roma era in competizione per ospitare expo 2030 se proprio lo vuoi sapere e loro i sauditi mi sono andati lì a mettere il logo di sponsor della maglia sulla squadra della città loro logo sulla maglia della squadra della città è una mossa strategia dei saudite si conoscete qualche d'uno un po' ammanicato nella roma chiedeteglielo e poi vedrete cosa vi diranno tra l'altro ragazzi la roma saudita sponsor della roma e la beffa al campidoglio al campidoglio mi diano sono incazzati neri ovviamente un articolo che vi lascerò il link in descrizione addirittura disse un articolo premier league norma anti newcastle e qui parliamo ragazzi tanto per farvi capire parliamo di fine 2021 di novembre 2021 8 club su 20 della premier league parere contrario soltanto al newcastle mentre il manchester city si è tenuto hanno approvato il blocco delle sponsorizzazioni con aziende che hanno legami diretti con i proprietari delle squadre secondo quanto rivela sky sport uk la nuova norma avrà valore temporaneo di un mese ma i club in questo periodo valuteranno la possibilità di inserirla in modo definitivo quindi lo sponsor per ragioni uefa sto parlando dell'inter lo sponsor per ragioni uefa è meglio che non sia riconducibile alla proprietà vedi proprio pif newcastle molto semplice basta guardare pif newcastle ho letto ora dopo ti posto l'articolo in descrizione quindi di cosa vuoi ragionare di cosa vogliamo ragionare fammi capire di cosa vogliamo ragionare è vero che in zaghi gioca sempre lo stesso modulo io l'ho detto tante volte però l'inter comunque gioca al riempimento degli spazi poi non voglio andare troppo nel tecnico e non voglio fare il professore perché sennò si rega a caos ma l'inter se te guardi l'inter gli stile l'inter gioca con quel modulo lì a a quella struttura di gioco a quella metodologia di gioco ma gioca al riempimento degli spazi trubin veniamo a trubine perché mi avete scritto tu tantissimi questa cosa giuse però volevano la percentuale sulla rivendita e allora vogliamo cioè qui ragazzi noi ormai le nostre aspettative io parlo ovviamente per quanto concerne il mercato sono talmente diventate talmente tanto basse che si si ragiona come zanghi alla fine e si sbaglia perché trubino portiere di vent'anni ti ripeto a me come tecnica di parata non fa impazzire questo portiere ma non puoi dire non è forte non puoi dire trubino è forte ragazzi non lo puoi dire ma 10 milioni un portiere di vent'anni e ma voleva fare il 50 per cento sulla rivendita ma ragazzi ma non puoi sempre prendere i giocatori a zero e rivenderteli a 50 milioni come hai fatto con un anno con quel qualche un altro e non puoi sempre prendere i giocatori con un pezzo di pane e rivenderteli questo lo può fare la casertana in lecce il casarano il cosenza con tutto il rispetto ma portiere di vent'anni tra i migliori in europa ma lo vuoi pagare 10 milioni o no cosa te ne frega se vogliono il 50 per cento sulla rivendita te lo tieni 10 anni se tra 10 anni lo rivendi ce l'hai ripresi 10 milioni secondo te o no ma di cosa stiamo ragionando ragazzi che bene frega a me di 50 per cento sulla rivendita prendi un portiere troppo a 20 anni a 10 milioni con tutto rispetto per bonsai bonsai è sommere sovrannobili sommere non è che lo sovrannominato iosi lo chiamano tutti bonsai bonsai a 35 36 anni ragazzi l'hai pagato 6 milioni in tre rate a 10 milioni prendevi trubi di cosa vogliamo ragionare non ti sto dicendo vicario il mio pupillo il mio preferito in assoluto che è andato al tottenham a 20 milioni ti sto dicendo trubi da 10 milioni ma lo vuoi pagare 10 milioni in portiere top oppure no oppure vogliamo che tutti ci regalino i giocatori perché zangro c'aveva più un euro ora ragazzi andiamo ben via ecco perché quindi noi noi sullo sponsor siamo a posto a dittura 8 mesi fa avevamo predetto catar airways quindi voglio dire ragazzi di cosa vogliamo ragionare sono altre devono dare le spiegazioni non siamo certo noi quindi discorso della roma che viene sponsorizzata diciamo dall'arabia saudita è una mossa strategica dei sauditi e te lo ripeto lo sponsor per ragioni uefa parlo di chi prenderà l'inter è meglio che non sia riconducibile alla proprietà e abbiamo l'esempio del newcastle con questo io concludo iscriviamoci al canale se vi fa piacere attiviamo la campanellina e ci becchiamo più tardi ciao l'inter